È un piano d'azione che punta a tutelare un settore chiave della nostra economia, non si può dire Europa se non si dice acciaio, è un settore che vede due principali clienti che sono il settore delle costruzioni e il settore dell'auto come settori chiave per tutta l'industria europea e sarà un po' un ombrello che permetterà agli Stati membri di agire in base a una serie di proposte per coordinare il lavoro. Si parlerà di temi, prevederà iniziative per quanto riguarda i costi dell'energia, per quanto riguarda le materie prime, per quanto riguarda le emissioni, per quanto riguarda la nostra azione contro il cambio climatico e la competitività a livello globale, quindi puntando sull'event playing field, per quanto riguarda gli aspetti commerciali. Questi sono un po' gli elementi chiave, oltre a quello che riguarderà le ristrutturazioni, cioè come utilizzare anche gli strumenti finanziari che mette a disposizione l'Unione Europea, penso al Fondo per la Globalizzazione, al Fondo Sociale Europeo, per i dipendenti che dovranno essere riqualificati per poi trovare occupazione in settori differenti.